Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Cisto Dentro Live, il nostro appuntamento settimanale per approfondire i temi legati alla famiglia e al coronavirus. Quella di oggi sarà una chiacchierata particolare perché parleremo di ambiente, parleremo di natura, quindi guarderemo questo momento, questo periodo sospeso, questo momento, questo periodo così particolare dà un occhio un po' diverso, un po' più esterno perché ci aiuterà a capire meglio quello che stiamo vivendo. Ma è tutta colpa della natura, è il titolo che abbiamo dato a questa intervista e con noi c'è Telmo Pievani, evoluzionista e docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, è un amico e quindi è veramente un piacere averlo qua con noi. Ciao Telmo! Ciao Fede, buongiorno a tutti! Allora Telmo, c'è una parola nuova che ha cambiato le nostre vite e questa parola è pandemia, ma è davvero una parola nuova o è una parola vecchia? No, in realtà è una parola vecchia perché di pandemie ce ne sono già state tante in passato, alcune ce le ricordiamo perché le abbiamo studiate sui libri di scuola e quindi la peste che ha cominciato a girare dall'Asia all'Europa, ma ce ne sono state tante altre. La novità di oggi è ovviamente che è molto più veloce perché noi siamo tantissimi e quindi è molto più rapida raggiungere tutto il mondo, entra dentro gli aerei, i treni insieme con noi e quindi questi virus o questi batteri hanno molta più facilità a diffondersi. Però pensa che di recente è stata fatta una scoperta nel nostro DNA che dimostra proprio quante pandemie abbiamo avuto in passato. Pensa che un quinto del nostro DNA, il 20%, è fatto di DNA di virus, perché i virus quando ci attaccano cercano di inserire il loro DNA dentro quello nostro, delle nostre cellule. Il 20% è tantissimo, quindi vuol dire che tutti i nostri antenati da quando eravamo in Africa negli ultimi 200 millenni, sono sopravvissuti a così tante pandemie che un quinto del nostro DNA è fatto da DNA dei virus. Questa è proprio la prova oggettiva di come la pandemia è una vecchia storia. Quindi non è la prima volta che l'uomo ha a che fare con una epidemia. Questa è una buona o una cattiva notizia? Come capita spesso nella natura è insieme, è una buona o una cattiva notizia, perché la natura è sempre ambivalente. È una buona notizia, perché dobbiamo sempre cercare comunque il lato ottimista, perché più noi veniamo attaccati da questa infezione, più il nostro sistema immunitario si rafforza. A volte lo facciamo perché degli animali ci danno questi virus, oppure abbiamo incontrato addirittura delle altre specie umane noi in passato. Tutti questi sono degli shock, si dice, cioè un po' dei traumi che rinforzano il nostro sistema immunitario, che più è attaccato più è allenato. Può sembrare strano, ma il nostro sistema immunitario ha bisogno di questo allenamento. Però è anche una cattiva notizia, perché questo coronavirus in particolare è nuovo, geneticamente non si era mai visto prima, circa il 20% del suo RNA non si era mai visto prima e questo ci ha messo in grande difficoltà. Non soltanto i nostri sistemi sanitari, ma proprio il nostro sistema immunitario, perché non l'aveva mai visto, non assomigliava mai a niente che ci avesse mai attaccato prima e quindi è imprevedibile. Questo spiega anche perché i malati sono molto diversi tra di loro, perché dipende tanto dal nostro DNA, da come siamo diversi geneticamente. Quindi qualcuno ha soltanto un raffreddore, un po' di mal di gola e poco altro, qualcuno invece si prende una polmonite anche molto pericolosa. Eppure è sempre lui, però dipende dal fatto che il nostro sistema immunitario non ha imparato ancora a conoscerlo e ci vorranno mesi e anni e poi arriverà il vaccino e avremo risolto in un altro modo. Tu sei un evoluzionista, quindi studi la storia della nostra specie, ma siamo davvero così fragili? Cioè basta un virus per metterci in pericolo? Eh sì, questo è un paradosso di questa storia, secondo me è molto importante. Pensa come siamo diversi noi e lui, noi siamo multicellulari, abbiamo 10 mila miliardi di cellule, siamo fatti di organi diversi, tessuti diversi, siamo complicatissimi, però dentro questa complicazione c'è anche una vulnerabilità. Lui invece è semplicissimo, è proprio una cosa banalissima, un pezzo di RNA, un unico filamento con intorno un po' di proteine. Quindi lui fa un mestiere molto più semplice del nostro, è molto più veloce a mutare, mentre noi siamo lenti, siamo dei pachidermi lentissimi nel mutare e quindi lui ci frega, ci frega perché noi siamo lenti nel rispondere, mentre noi sviluppiamo le difese, lui magari è già mutato, si è già trasformato in un'altra variante e quindi ha sempre un po' un vantaggio su di noi, quindi noi abbiamo imparato a essere così, sappiamo di essere così vulnerabili e quindi dobbiamo trovare, come dire, degli altri strumenti e gli altri strumenti cosa sono? Sono la ricerca, la tecnologia, inventarsi dei modi per fregare noi lui attraverso appunto i farmaci, i vaccini, però è molto importante che condividiamo questo con i nostri ragazzi, le famiglie, questa è una storia che va avanti da sempre e andrà sempre avanti, cioè noi troveremo il vaccino per questo, ma poi ce ne sarà un altro che farà il salto di specie, dovremo di nuovo ricominciare a trovare un altro vaccino, è una corsa infinita di mosse e contromosse tra noi e gli agenti patogeni e i parassiti. Telmo, nella storia del coronavirus sembrano coinvolti anche gli animali, come il pipistrello e il pangolino, hanno delle responsabilità questi animali, sarebbero meglio non fossero mai esistiti per il bene della nostra specie? No, assolutamente no, non hanno nessuna colpa, la categoria di colpa è umana, la natura, gli animali non hanno nessuna colpa, rispondono alle logiche dell'evoluzione della natura. Ho sentito dire, e sono molto preoccupato per questo, che in Cina e in tutta l'Asia stanno discutendo di misure di eradicazione dei pipistrelli, cioè farli fuori tutti e estinguere, che non ha nessun senso, siccome sappiamo che questo Covid-19 è arrivato dai pipistrelli, allora distruggiamo i pipistrelli, è proprio il modo sbagliato per reagire a questa sfida, perché non è facendo fuori i pipistrelli, perché questa volta era il pipistrello, ma un'altra volta sono i polli, un'altra volta sono le scimmie, non è che possiamo distruggere la biodiversità perché questi virus arrivano a noi. Proprio siccome sappiamo che queste pandemie succedono e si ripetono, la cosa più intelligente che noi possiamo fare è ridurre le probabilità che succedono e quindi smetterla di uccidere questi animali è esattamente l'opposto, smetterla di cacciarli, smetterla di fare commercio illegale di questi animali. Adesso finalmente la Cina ha deciso di proibire il commercio illegale di animali esotici a fini alimentari e finalmente dico io, perché dovevamo aspettare una tragedia del genere con questi costi economici per prendere una decisione saggia e banale come questa, però non hanno ancora proibito il commercio di questi animali, che è vietato a livello internazionale, per la medicina tradizionale, quindi vuol dire che comunque ne uccideranno ancora degli altri, non per mangiarseli, ma perché pensano che delle parti di questi animali servano come afrodisiaci o che ci curino dalle malattie, anche se non c'è nessuna prova di questo. Quindi la cosa più saggia da fare sarebbe non dar la colpa agli animali, ma ridurre il più possibile la distruzione del loro ambiente e la loro uccisione, in modo tale da non favorire il passaggio dei virus che loro hanno dentro di sé, perché sono dei serbatoi di questi virus, all'uomo, anche perché quando questi virus poi saltano all'uomo diventano molto più cattivi. La cosa che noi dovremmo fare, aggiungo solo questo, è studiarli di più i pipistrelli, perché pensa che i pipistrelli hanno un sistema immunitario che è molto più potente del nostro, perché riesce a modulare l'infiammazione, è una cosa fantastica, cioè loro arriva il virus, si ammalano anche loro, ma poi hanno un sistema per ridurre l'infiammazione, che è quello di cui avremmo bisogno noi adesso in ospedale, perché quando arrivano le persone in ospedale malate si esplode questa infiammazione polmonare e non riusciamo a fermarla. Invece i pipistrelli hanno un sistema naturale per sconfiggerla, perché loro sono abituati da più tempo a vivere con questi virus, quindi non dobbiamo ucciderli e nemmeno dargli la colpa, dobbiamo studiarli per capire come fanno a difendersi da questi virus. Tu poi sei un grande fan del pangolino anche, vero? Ma il pangolino non so se è stato accusato colpevolmente, perché probabilmente questo coronavirus è così diverso geneticamente che dal pipistrello, perché sicuramente è partito dal pipistrello, perché tutti i suoi cugini di questo sono nel pipistrello, però è cambiato così tanto che forse è passato anche attraverso un'altra specie e un candidato potrebbe essere il pangolino, che a me sta simpaticissimo perché è un mammifero con la corazza che si appallottola, non ha mai fatto male a nessuno, mangia soltanto formiche e termiti e ci tengo a difenderlo perché veramente è ucciso, un po' perché la sua carne pare che sia buona, non l'ho mai provata, ma non è molto importante, e poi perché si pensa che le sue scaglie tritate abbiano chissà quale effetto. Io voglio ricordare ai nostri ragazzi e alle famiglie che le scaglie del pangolino, come il corno del rinoceronte, sono come esattamente le nostre unghie e i nostri capelli, sono fatte di cheratina, quindi piuttosto che uccidere i pangolini, se pensiamo che la cheratina sia così miracolosa, basta che ogni volta che ci tagliamo le unghie o ci tagliamo i capelli, li mettiamo in una scatola, li tritiamo e poi ce li mangiamo, li mettiamo in una tisana, è la stessa cosa, cioè non fa niente ovviamente, ma perlomeno non ammazziamo i rinoceronti e i pangolini. Telmo, la natura che fa nascere anche il virus, a volte viene quasi considerata un'entità cattiva, appunto perché porta dolore, perché porta morte, perché porta trussione, dobbiamo avere paura della natura? Dunque, secondo me sì, bisogna avere paura della natura, però non perché è cattiva, questo è sbagliato, pensare che la natura sia cattiva, la natura non è né buona né cattiva, quelle sono categorie morali che abbiamo inventato noi, che sono nostre, è il nostro modo di guardare il mondo, dentro la natura ci sono cose bellissime e cose orrende, quindi non è lì che devi cercare l'autorità morale, però noi dobbiamo averne paura perché la natura non è fatta per noi, questo è un grande fraintendimento che vedo sempre che torna un po' nel dibattito, cioè la natura è indipendente da noi, nel senso che c'è una grande asimmetria che va sempre ricordata, la natura non ha nessun bisogno di esseri umani, senza di noi andrebbe avanti benissimo per conto suo, i pangolini, i pipistrelli, la biodiversità tornerebbe ad esplodere, quindi lei non ha bisogno di noi, ma non vale il viceversa, noi abbiamo bisogno di lei altrimenti non respiriamo nemmeno un minuto e non sopravviviamo neanche un secondo, visto che c'è questa asimmetria, dobbiamo essere un po' umili, quindi io direi che oltre che avere paura è fondamentale avere rispetto, come si deve avere rispetto di qualcuno che è più potente di te, perché tu dipendi da lei, mentre lei non dipende da te, quindi è sbagliatissimo distruggerla, ridurre la biodiversità, perché alla fine ne paghiamo noi le conseguenze, anzi i nostri figli e i nostri nipoti, perché l'avrà sempre vinta lei in ogni caso se noi la distruggiamo e questo è molto importante da ricordare, perché quando diciamo dobbiamo salvare il pianeta è vero, però ricordiamoci che salvare il pianeta è fondamentale perché dobbiamo salvare noi stessi, cioè il nostro futuro, il pianeta poi si salverebbe comunque in ogni caso e andrebbe avanti senza di noi. Qualcuno dice anche che tutto ciò che sta accadendo altro non sia che una rivolta del pianeta nei nostri confronti, c'è della verità in questa affermazione? Ma la rivolta presupporrebbe che nel mondo, nella natura ci fossero delle intenzioni, perché io mi rivolto, si dice spesso che l'uomo è diventato il cancro del pianeta, la peste del pianeta, cioè che il vero virus siamo noi, sono tutte metafore giuste ovviamente per certi aspetti, perché noi siamo davvero diventati un elemento distruttivo, insostenibile per il pianeta, però il pianeta non è che si rivolta, siamo noi che dobbiamo capire quali sono le dinamiche planetarie ed evitare di soccombere, cioè di pagarne le conseguenze. Noi rispetto alla natura abbiamo un vantaggio, è che possiamo immaginare, abbiamo l'immaginazione, quindi possiamo prevedere, è quello che non riusciamo a fare adesso, come ha detto il mio collega antropologo famoso Jared Diamond, la cosa migliore che noi possiamo fare oggi dentro questa pandemia è evitare la prossima, può sembrare assurdo, ma imparando da questa noi possiamo evitare la prossima, questa ormai ce la prendiamo, dobbiamo aspettare il vaccino e l'abbiamo pagata cara, però se riflettiamo bene su questa possiamo evitare la prossima, che è la cosa più intelligente da fare. L'evoluzionista studia il passato e il presente dell'uomo e di tutto il pianeta, ti faccio invece una domanda sul futuro, questo virus ci cambierà come persone, come uomini e come donne? Ma secondo me è un po' sì, anche se ci vuole tanto per cambiare gli esseri umani, perché voglio dire ci vogliono tante generazioni, però è chiaro che è stata una epifania, si dice in ambito filosofico, cioè un'apparizione, abbiamo capito improvvisamente in modo molto più concreto quanto siamo fragili e quanto siamo vulnerabili. La sfida sarà capire come rientrare alla presunta normalità, perché io vedo già adesso che ci sono molti dibattiti, c'è chi dice ma no, deve tornare tutto come prima, non dobbiamo sentirci in colpa e questo mi preoccupa molto questo argomento. E altri invece che dicono no, bisogna cambiare tutto perché siamo colpevoli, perché è colpa nostra, perché la natura altrimenti ci estinguerà. Sono radicalizzazioni un po' estremiste. Secondo me noi dobbiamo pensare a una cosa fondamentale, difendere l'ambiente, difendere la natura, significa difendere i nostri interessi anche, non soltanto quelli della natura, ormai in futuro bisognerà capire che gli interessi della natura coincidono con i nostri, o noi la difendiamo questa natura, oppure non possiamo garantire ai nostri figli, ai nostri nipoti un futuro di benessere come è stato il nostro. E poi aggiungo anche che noi siamo umani e dobbiamo anche pensare agli interessi umani, nel senso che io non credo che ci dobbiamo estinguere, non riesco ad arrivare a questa idea che siccome siamo così dannosi, faremmo bene a non esserci più, non ci credo a questa visione nichilista così. Secondo me l'ecologia del futuro è invece un grande impegno umanista, anche perché più noi difendiamo la natura, più difendiamo i più deboli, perché più distruggiamo la natura, più quelli che pagano le conseguenze del riscaldamento climatico, anche di queste pandemie, sono i più poveri, sono i diseredati, sono quelli che non hanno assistenza sanitaria, quindi può sembrare strano, ma difendere la natura significa anche difendere la giustizia e difendere l'uguaglianza e la solidarietà tra gli esseri umani, i due problemi sono strettamente legati ad essi. Dovremmo indossare la mascherina, ci saranno le distanze tra le persone, chissà mai quando potremo riabbracciarci, ma l'uomo in quanto specie si può abituare a vivere come non ha mai vissuto? È molto difficile, però questo fatto, cioè che noi per tanti mesi non potremo abbracciarci, non potremo avere un comportamento sociale come prima, ti fa capire quanto è pericolosa la pandemia, perché il virus ha una strategia che è diversa da tutti gli altri, il virus usa la nostra socialità, usa le nostre relazioni, la nostra globalizzazione, il fatto che ci piace viaggiare, l'Erasmus, andare in giro per l'Europa, tutte le cose belle della nostra vita, la socialità e ce le ritorce contro. Più ci piacciono, più noi siamo sociali e più lui è pericoloso. ecco perché il virus va temuto molto, no? E non bisogna però fare il suo gioco alla fine, non è che dobbiamo diventare tutti delle monadi perché altrimenti abbiamo paura del virus, dovremo tornare a fare una vita sociale, ma in un ambiente protetto, cioè con una natura che non ci fa arrivare questi virus che fanno il salto di specie. Quindi io la vedrei non tanto con essere meno sociali, perché noi siamo una specie sociale, non possiamo fare a meno e dovremo per forza tornare ad esserlo, spero prima possibile. Però quando diventeremo sociali smettiamola di avere comportamenti che mettano a rischio proprio la nostra socialità. Temo, se puoi far capire cosa sta succedendo in questi giorni, in queste settimane dentro ai laboratori scientifici, negli ospedali, nell'università, negli istituti di ricerca, voi scienziati, cosa state cercando e come state cercando? Beh è stata una rivoluzione, adesso è un momento proprio di fibrillazione pazzessa, perché sono stati riconvertiti dei laboratori che stavano facendo tutt'altro e sono stati tutti messi a lavorare adesso sul Covid e per due ragioni fondamentali, bisogna correre tanto per trovare il più rapidamente possibile dei farmaci antivirali, quindi dei farmaci che riducano i sintomi, quindi non uccidono il virus, non ci guariscono, però quantomeno non ci vengono le polmoniti terribili, non moriamo con questo virus. E qua siamo abbastanza vicini perché ovviamente si fa di necessità virtù, quindi si comincia usando magari dei farmaci che esistono già, così non bisogna ripetere tutti i passaggi della sperimentazione e se per caso funzionano, magari soltanto rivisti un pochino, già avremmo fatto bingo, perché vuol dire che comunque se ti ammali non muori di una polmonite interstiziale terribile. E poi c'è il vaccino che invece è la soluzione definitiva, per quello ci vuole un po' più tempo perché bisogna comunque invece, è nuovo, quindi bisogna passare attraverso tutti i controlli in modo tale da evitare di mettere in commercio un vaccino che magari ci aiuta per il virus, ma poi ci dà degli effetti collaterali negativi, quindi bisogna controllare e lì si fa una gran corsa per arrivare. Però racconto anche ai ragazzi e alle famiglie una cosa che mi è successa l'altra settimana, perché facendo una riunione in telematica con dei miei colleghi, loro mi hanno detto una cosa che mi ha fatto molto ridere, mi hanno detto guarda, grazie al coronavirus stiamo scoprendo delle cose che mai ci saremmo immaginati di cercare. Adesso sono cose molto tecniche, però dei recettori, delle proteine, delle strategie che ha questo virus, che non erano mai state viste prima. E questo ti fa capire quanto è serendipica la scienza, cioè attraverso questa pandemia che è una cosa terribile, stiamo scoprendo delle cose che nemmeno ci chiedevamo e che forse ci aiuteranno anche a sconfiggere delle altre malattie e delle altre epidemie. Questo è la scienza, cioè il far tesoro di qualcosa di negativo, di imprevedibile attraverso la conoscenza, la curiosità, che è la cosa bella senza fine della scienza. E quindi ci possiamo salutare anche con un messaggio di speranza, alla fine la scienza avrà la meglio? Beh sicuramente, il vaccino arriverà e quindi ancora una volta grazie alla ricerca scientifica ne usciremo fuori. Però permettimi di condividere con te, con i ragazzi, con le famiglie anche questa cosa però. Della ricerca scientifica non bisogna ricordarsi solo quando siamo in ospedale, quando è un'emergenza, quando muoiono le persone. Della ricerca scientifica bisogna ricordarsi anche prima, perché se fai ricerca scientifica, soprattutto fondamentale, quella proprio mossa dalla curiosità, hai molte più armi quando poi hai un incidente, un accidente terribile come questo, per venirne fuori. Quindi la ricerca scientifica adesso per fortuna è al centro dell'attenzione anche mediatica, ma dovrebbe esserlo sempre, non soltanto quando ne abbiamo strettamente bisogno, perché altrimenti è un po' troppo utilitaristica la cosa. Grazie davvero Telmo per essere stati con noi in questo appuntamento di Cisto Dentro Live. Buon lavoro in bocca al lupo per te e tutto il tuo team di ricerca. L'appuntamento con Cisto Dentro Live, come sempre, è alla prossima settimana, però continuate a seguirci ogni giorno sul nostro sito con tanti stimoli, tante idee per impegnare, occupare e colorare questo tempo liberato che ci ha portato il coronavirus. Ciao Telmo, grazie ancora! Ciao a tutti voi, alla prossima!